Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. Reazioni disparate nel mondo politico dopo la dura critica di Emiliano alla gestione straordinaria del comune di Foggia. Sentiamo il servizio di Lucia Piemontese. Anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano è oggi duro rispetto ai limiti oggettivi dell'azione della gestione straordinaria del comune di Foggia. Con Foggia abbiamo avuto la più evidente dimostrazione di quanto siano disastrosi commisseramenti straordinari. Stiamo perdendo un sacco di tempo un'incapacità politica troppo evidente. È stato questo il passaggio più pesante del lungo intervento di Emiliano venerdì sera in Feltrinelli a Bari nell'evento organizzato dall'Attacco sulla Puglia raccontata dal nord della Puglia. Ai tanti eletti e addetti ai lavori di Capitanata presenti all'iniziativa non sono sfuggite in particolare la critica rivolta ai limiti appunto della gestione straordinaria del comune di Foggia, seguita allo scioglimento per mafia di agosto 2021 e a riferimento alle elezioni comunali del 2023 rispetto alle quali ha sottolineato il governatore qualcuno pensa di risolvere l'impasso dicendo presidente pensaci tu. Le parole di Emiliano hanno suscitato svariate reazioni nel mondo politico per il deputato di Fratelli d'Italia Gian Donato Lasalandra sono funzionali alla prossima campagna elettorale e bisognerebbe evitare in politica il tifo a singhiozzo visto che il centrosinistra detta del parlamentare Meloniano è stato prima su una posizione pro commissari e oggi invece è passato a una posizione più critica. Tra i 5 stelle Gisella naturale, senatrice presente anche ella all'incontro di venerdì difende i commissari mentre l'europarlamentare Mario Furore che era tra i relatori dell'incontro fa un'analisi più articolata. Quello di Emiliano dice è stato un intervento importante perché anche la regione ha dovuto ammettere che in questo momento la gestione commissariale sta bloccando diverse situazioni a Foggia. La tragedia annunciata di Ischia pone con urgenza la questione del corretto utilizzo del suolo e della mancanza di una pianificazione dei rischi anche nel territorio di Capitanata. Sentiamo il servizio di Daniela Corfiati. C'è ventificazione selvaggia, nessuna tutela del suolo né considerazione dei pericoli idrogeologici all'origine della tragedia annunciata di Ischia. Anche il territorio di Puglia e di Capitanata sono esposti a simili rischi seppure in presenza di una differente configurazione geologica. Così come in Campania anche in Puglia interventi dissennati hanno cancellato l'originario assetto di aree rurali e urbanizzate, sconvolgendo le naturali vie di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. A dirlo è la presidente dei geologi della Puglia Giovanna Amedei. Differentemente dai terremoti, per il dissesto idrogeologico e le frane il rischio è prevedibile e si può in maniera preventiva porre il dovuto rimedio con una pianificazione che accerti se si può costruire o meno, è l'opinione di Amedei, che sollecita un aggiornamento della cartografia geologica anche in considerazione dei rapidi cambiamenti climatici in atto. Questione urgente è anche capire come mettere in sicurezza i cittadini che abitano in zone ad alta pericolosità dove è stato costruito e, dove è possibile, delocalizzare gli edifici. Per Gianfranco Pazienza, esponente di Legambiente, le maggiori criticità in Capitanata riguardano la pessima gestione dello scorrimento delle acque di superficie, facendo notare come nelle campagne sia stato arato fino ai bordi delle strade, causando la pericolosa chiusura di fossi e canali, che sono elemento vitale della salute del suolo quando si verificano eventi alluvionali. E poi cita il caso esemplare di San Giovanni Rotondo, dove è stata cementificata un'area in zona a rischio classificata alluvionale, con investimenti di lottizzazione per 3.000 nuove case in 70 ettari, che hanno messo a rischio i cittadini che ci sono andati a vivere, denuncia l'ecologista. Sono 5.000 in Puglia le persone affette da disabilità uditive, presentata questa mattina dagli assessorati al welfare e all'istruzione della Regione Puglia, una iniziativa che mira a introdurre e insegnare la lingua dei segni anche nelle scuole, per favorire l'inclusione e l'abbattimento delle barriere educative. Favorire la piena partecipazione alla vita sociale e l'abbattimento delle barriere di comunicazione è quanto previsto da una legge regionale del 2021 che riconosce la lingua dei segni e ne promuove l'acquisizione, la diffusione e l'uso insieme alla lingua dei segni nella comunità sociale, nella scuola, nelle università e nelle strutture sociosanitarie, al fine di offrire strumenti e risorse umane operative essenziali per una piena e reale inclusione sociale delle persone sorde, sordoceche e ipoacusiche. Parte da qui il programma per le politiche sociali di inclusione e integrazione scolastica da parte dei due assessorati regionali, quello dell'istruzione e del welfare, in collaborazione con l'ente nazionale Sordi della Puglia. Sono 5.000 le persone affette da disabilità uditive a cui l'ente offre assistenza nella Regione. L'iniziativa si articolerà lungo due assi di intervento. Il primo prevede azioni di integrazione sociale e l'abbattimento delle barriere comunicative attraverso servizi di interpretariato. La seconda linea di intervento passerà attraverso la scuola e la sua comunità attraverso l'azione dell'ufficio scolastico regionale. Siamo convinti che la Regione Puglia, intraprendendo questa attività, stia davvero facendo un'attività di integrazione. Attività di integrazione che deve essere svolta ovviamente con tutte le istituzioni, con l'ufficio scolastico regionale soprattutto, ma anche con gli enti locali, ma anche con le associazioni. Insomma davvero un progetto importante che la Regione Puglia porterà avanti con grande forza e con grande determinazione. Il mondo della scuola è attento al mondo delle disabilità e dei linguaggi, quindi crediamo che veramente il contributo di Ensa all'interno delle scuole potrà sia dare formazione specifica in alcuni settori, sia fare un'operazione di sensibilizzazione di tutto il mondo scolastico sull'integrazione e sulla lingua dei segni, riconosciuta dalla normativa nazionale e regionale proprio come una vera e propria lingua. Arriva nelle scuole di Bari e della BAT il progetto Carta Canta, ecologia più economia a scuola che consentirà a oltre 10.000 studenti di ripercorrere l'evoluzione della realtà storica ed economica della Puglia dell'ultimo secolo fino ai giorni nostri. Sentiamo come in questo servizio. Arriva nelle scuole di Bari e della BAT il progetto Carta Canta, ecologia più economia a scuola, che consentirà a oltre 10.000 studenti di ripercorrere l'evoluzione della realtà storica ed economica della Puglia dell'ultimo secolo fino ai giorni nostri. Agli allunni sarà offerta l'occasione di studiare il passato e il presente del territorio, consultando gratuitamente l'archivio storico della Gazzetta del Mezzogiorno e leggendo in classe le edizioni attuali del quotidiano per quattro mesi. A ciò si aggiungeranno i laboratori di scrittura e conferenze con rappresentanti del mondo imprenditoriale giornalistico e archivistico. L'attività avrà inizio a dicembre e coinvolgerà 65 istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa con oltre 10.000 alunni e 487 classi. Si tratta di quarte e quinte della scuola primaria e classi prime della secondaria. Il progetto realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Bari è frutto di un accordo sottoscritto tra Confindustria, Ministero della Cultura, Ufficio Scolastico Regionale e la società editrice del quotidiano barese. Investiamo sul capitale umano perché investiamo sui nostri ragazzi, sulla capacità di lettura e di analisi che hanno i nostri ragazzi. Daremo 30.000 copie e ci saranno migliaia di ragazzi della nostra scuola che avranno la possibilità di leggere, comprendere il testo e analizzarlo. Cosa vuol dire che si legge meno? Che il modo di informarsi e il fare informazione cambia. Quindi questo progetto che va a educare le nuove generazioni, cosa vuol dire? Che educa nuove coscienze, coscienze critiche. Si tratta anche di analizzare le fonti, sia quelle attuali, sia quelle storiche, con particolare riguardo anche all'ecologia e quindi alcune tematiche di stretta attualità e che fanno parte naturalmente dei traguardi della primaria e degli obiettivi del primo grado. Il mondo degli e-book, ovvero dei libri digitali, torna a raccontare il proprio viaggio. Le librerie della città ne parlano ma il rapporto con la carta stampata è forte, in particolare tra i giovani. A dare un rapido sguardo c'è Marisa Colucci della storica libreria Dante. Silvia Guerrieri. Parliamo di e-book. Allora, hanno preso il sopravvento come si pensava qualche anno fa o c'è ancora una grande lotta con il cartaceo? Beh, diciamo che prima della pandemia probabilmente l'e-book era in forte espansione. Probabilmente la pandemia ha resettato un po' quello che probabilmente sarebbe stato lo standard, quindi di conseguenza adesso i clienti preferiscono, per fortuna, il cartaceo. Quindi c'è una riscoperta del valore del libro, una riscoperta delle pagine perché il vero lettore assapora il libro proprio perché insomma anche il semplice sfogliarlo dà quel profumo particolare. Quindi io credo che da noi il discorso e-book è un po' messo da parte, accantonato. Certamente non è da scartare però in questo momento è un attimino in stand-by, diciamo così. Chiudiamo con lo sport, torna domani in campo alle 17 la cestistica Sansevero che dopo aver ceduto di schianto nel derby di Lecce con il Nardò è attesa dal recupero della quarta giornata a Mantua dallo staff. Neri sempre alla ricerca del primo exploit, lontano dal pala Falcone e Borsellino e di quella continuità di risultati che finora non ha premiato il quintetto di coach pilot. Intanto la classifica del girone rosso di A2 e dei Sanseveresi si fa precaria ed occorre imprimere un'accelerata. Mantua precede di due lunghezze, l'Allianz che sia finalmente la volta buona si chiedono anche i tifosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.